Il popolo greco era in ginocchio, la fame, gli stenti, le epidemie avevano scavato un incolmabile solco di dolore e di umiliazione, ben più grave di quello già tanto sanguinoso tracciato dalla guerra. Ecco qua, 11 reclute e una gloriosa veterana da distribuire nei nostri possibili militari da qui a ora. Da questo momento sono in forza come ausiliaria del nostro esercito e tu rispondi di lui, hai capito? Ma vuoi che cosa trasportarvi? Reclute per i bordelli militari. E il soldato italiano sopporta tutte le privazioni ma quella no. E' la biondina. Fermo, signore! Leon, si muove! Basta, signore! Ho sognato che l'Italia era occupata dai soldati, i greci, le vostre ragazze affamate ai vincitori e una era tua sorella. Se qualche volta dimentico e sorrido solo perché ho vent'anni. La società è che divina si muove questa Grazie.